Bro, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sì, mio cugino tazzi. Come? Che dici, bro? Tutto apposta, teggi? Stai a pullappare lo studio? Quando stai? Giù. Fra, calcola, io di pastora sto già a dormire, in verità. Sto facendo un extra solo per DREF. Grazie, bro. Mitico, mitico. Ho già la canna della buonotte, ma l'ho già fatta. Mo fai l'altra, vai. Mo faccio l'altra, bro. Io ero. E' un cazzo. I miei cugini. Big Tony, big zio Tony. Grande zio Tony. Bello, bro. Sto qua, aspetta che ti faccio vedere. Guala, fatti vedere. Ciao, Tony. Bello, big guala. Raccontiamo l'aneddoto che mi ha svegliato. Il mio amico qua, stavamo su House Party una volta. Mo ve lo faccio vedere, ma... Un quadro, un quadro. Un quadro. Un quadro, assoluto, che onore. Raga, una volta era entrato nella chiamata con me Tony, chiaramente un mio amico da sempre, cose. E una sera Tony mi ha mandato un messaggio dove mi diceva, frate, porco Dè, lo stavo per andare a prendere a casa e c'era il video, la foto di Suppini, questo cane. Il mio fratello, Tony, stavo lì in casa, che cattavo lì. E se sbaglio, ho premuto Tony F, raga. Il cazzo di Suppo stava sentito. È un pazzo, fratello. Cioè, hai rischiato tipo la vita, calco. Eh sì, eh. Per fortuna che era morfo sul letto, non era un'altra situazione, capito. Minch, è vero, è vero. Quella sera che sei collato giocando alla Play. Sì. 17.